Ed eccoci qui a questo weekend delle palme, in attesa del weekend quello più importante, quello che ci piace di più, al quale diamo più attenzione, ovvero quello della Pasqua. Sarà un weekend delle palme direi tranquillo nella giornata di sabato, un po' più incertezza nella giornata di domenica per la coda di una perturbazione che interesserà soprattutto l'est Europa. Quindi direi che nella giornata di sabato avremo stabilità diffusa su tutto l'Abruzzo, cielo in prevalenza poco nuvoloso, salvo qualche transito di velature o nube medio alta, oppure la formazione di qualche cumulo nembo sulle zone interne e montuose nelle ore pomeridiane, ma direi tutto sommato sarà un buon sabato. Ventilazione debole o moderata, il rinforzo durante il corso della giornata da ponente e da sud, il mare risulterà mosso, le temperature senza variazioni di rilievo. Eccoci all'incertezza della domenica, questa incertezza è relegata soprattutto nella seconda parte di giornata, quando avremo un aumento della nuvolosità si potrà accendere qua e là per l'Abruzzo, un po' a macchia di reopardo, il rischio per qualche acquazzone, qualche locale rovescio o anche qualche locale e breve temporale, eventualmente nevoso, la quota neve sarà oltre 1400-1500 metri. Temperature in diminuzione, il vento roterà da nord-ovest e il mare risulterà mosso. E questo è il tempo della domenica delle palme, lo so, lo so, mi volete chiedere ma per il weekend di Pasqua ne riparleremo, ne riparleremo anche qui sull'Aquila Blog, ma vi dico ad oggi che salgono le quotazioni per un weekend di Pasqua sull'Abruzzo all'insegna del bel tempo ed anche delle temperature oltre le medie del periodo. Per ora salgono le quotazioni ma non possiamo assolutamente sciogliere la prognosi. La scioglieremo nel corso dei prossimi giorni.